Mary Jane ASMR Buonasera a tutti Ciao ragazzi spero stiate tutti bene, che stiate passando una bella e felice estate se non è così vi auguro di cuore che le cose si possano aggiustare presto io per chi ancora non mi conoscesse mi presento è giusto farlo qualche volta nel video perché c'è sempre la prima volta per qualcuno che mi vede io sono Mary Jane ASMR per chi non mi conoscesse e non mi avesse mai vista è il mio ruolo e obiettivo in questi video che porto sul canale è quello di farvi rilassare e portare un po' di benessere e di pace mentale sono dieta quindi di essere nelle vostre case di potervi fare compagnia e di essere un pochino un pochino un pochino un pochino di aiuto per il vostro rilassamento o sonno se vi piacciono i miei video supportatemi con un like iscrivetevi al canale sarà per me di sostegno il trigger di oggi ragazzi è un trigger dedicato alla mia voce oggi vi accompagno con il mio whispering quindi questo sarà il video trigger di oggi in questo video voglio rassicurarvi e farvi capire che tutto ma proprio tutto andrà bene buon rilassamento ehi ciao come stai? ti viene chiesto spesso come stai? lo so a volte viene detto solo anzi spesso viene detto solo come frase di circostanza il come stai ma in realtà questa frase va dato il giusto valore il giusto peso ci si aspetta sempre che dall'altra parte l'interlocutore ci dica va tutto bene perché chi te lo chiede a volte anzi spesso ripeto spesso non vuol sentirsi dire che le cose vanno male appunto dice come frase di circostanza no? quante volte ci è capitato ma io ti chiedo come stai? come sta andando la tua vita in questo momento? lo so la preoccupazione c'è e riempie i nostri pensieri completamente ti fa sentire solo o sola ma non devi temere perché c'è sempre qualcuno che può aiutarti può sorreggerti e in questo momento io sono una di queste persone qui per te che ti vuole rassicurare non ti preoccupare se adesso le cose non vanno bene per qualsiasi motivo tutte le cose prima o poi si sistemano si sistemano si mettono a posto ma magari ci vuole del tempo tempi più o meno lunghi o anche brevi ma le cose si mettono sempre a posto anche la nostra volontà e fa sì che le cose si sistemino e vadano al meglio lascia stare ora tutti i turbamenti che che hai che sono qui lasciali fuori concentrati su questo video sulla mia voce lascia stare tutto quello che oggi ti ha assillato ti ha reso pesante la giornata butta via elimina tutto rilassa profondamente il tuo corpo mentre sei qui ad ascoltarmi rilasserai anche la tua mente così facendo e metti anche degli auricolari visto che ho dimenticato di dirtelo te lo ricordo non pensare ai problemi i problemi si risolvono non pensare che è troppo tardi per fare qualcosa non pensare che il tuo obiettivo sia difficile da raggiungere non pensare che tutto quello che tu stai facendo per la tua vita per i tuoi obiettivi non serva a nulla non pensare a tutte queste cose qui solo perché davanti al tuo percorso di vita si è presentato un ostacolo o più ostacoli non ti non affannarti vivi le cose più lentamente vivi le cose con più leggerezza d'animo non appesantirti io ti posso garantire che perché c'è sempre una soluzione a tutto una soluzione ai problemi alle difficoltà c'è sempre sempre un'alternativa c'è sempre sempre un'altra via d'uscita un'altra soluzione non pensare che adesso quello che stai provando ti possa fermare perché non è assolutamente così tu non ti fermerai tu non ti arresterai tu continuerai ad andare avanti e aggiornare i tuoi sogni gli obiettivi che ti sei posto piano piano potrai portarli al termine non darti per forza un tempo preciso ci sono cose che si hanno un tempo stabilito per cui farle e che hanno una scadenza ma non tutte le cose importanti della vita hanno per forza una scadenza rilassati un attimo fermati un attimo vivi le cose più attentamente e le preoccupazioni tienile da parte per qualche tempo non devi riempirti di troppi problemi di troppi pensieri che poi si insinuano così tanto così a lungo nella nostra testa che sembrano veramente voler esplodere sembrano sembrano quasi che non riescano a stare qua dentro perché sono talmente tanti i pensieri le preoccupazioni sembra che la testa voglia esplodere però poi non è così grazie a Dio devi lasciarti andare lasciare lasciare che tutto scorra non puoi avere sempre il controllo delle cose o delle altre delle situazioni non si può essere controllori del tempo di tutto quello che ci accade dobbiamo accettare questo dobbiamo accettare che non tutto è gestibile con le nostre mani o con la nostra mente a volte le cose nel bene o nel male vanno da sè fermati a pensare che tante cose non dipendono da noi quindi a volte devono andare in una certa maniera perché così è e ci sentiamo inermi no? perché quella determinata cosa pensavamo andasse così e allora questa cosa può diventare una preoccupazione no? perché abbiamo perso il controllo di una determinata cosa e ci fa arrestare ci ferma ma non deve essere così lascia di andare lascia fluire anche le energie lasciale fluire lasciale entrare e lasciale uscire ricarica di pensieri positivi e svuota fai uscire tutta la negatività quanto più sei rilassato e sereno meglio andranno le cose meno ci pensi ai problemi più riuscirai a risolverli devi restare sempre sereno tranquillo e pensare che tutto si sistema tutto proprio tutto si sistema anche quando le cose sembrano difficili o impossibili le cose belle poi arrivano a chissà aspettare giungono a noi le cose belle prima o poi giungono le cose belle perciò no 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 non voglio vedere quegli occhi tristi prova a sorridere quegli occhi tristi non li voglio vedere devi sorridere devi sorridere no no per me non per gli altri per te stesso non per il mondo per te stesso quando sorridi devi cercarlo di fare devi cercare di farlo con l'anima con l'anima quando la tua anima sorride perché lo sente davvero ti sentirai davvero sereno non essere triste non essere triste quegli occhi tristi così non mi piacciono il sereno torna presto il sereno torna presto dopo la tempesta c'è sempre il sole dopo un crudo temporale c'è sempre la luce e l'arcobaleno dopo tutte le difficoltà e gli ostacoli e dopo averli superati gli ostacoli trovi le gioie perciò non essere triste non ti affannare per niente non ti affannare per niente tu meriti amore meriti pace e serenità meriti di stare bene psicologicamente mentalmente meriti di stare bene fisicamente meriti di essere al massimo delle tue forze meriti tutte le cose belle di questo mondo non meriti malvagità non meriti cattiveria non pensare a quello che gli altri possono pensare di te fregatene 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 di tutto pensa un po' pensa ad avere un po' di sano e dico sano sottolineo sano egoismo perché fino ad un certo punto bisogna interessarsi dei pareri altrui ma fino ad un certo limite fino ad un certo punto superato quel punto conta tanto la nostra autostima quello che noi pensiamo di noi stessi non conta solo quello che gli altri pensano di noi lascia fluire tutte quelle energie positive dentro di te tutti quei pensieri belli tutti quei pensieri nobili ricaricati di questo e respira respira profondamente respira profondamente respira profondamente respira profondamente e butta fuori tutto vedrai che tutto tornerà ad andare meglio molto molto presto quando meno te lo aspetti il cielo torna ad essere sereno non ti fa rivenire le ansie non stressarti fa le cose così come vanno fatte ma prenditi il tuo tempo davvero prenditi il tuo tempo prenditi davvero il tuo tempo solo così quello che tu fai per te o per gli altri ti verrà bene sì se stai soffrendo se stai soffrendo non devi soffrire se stai male non devi stare male io ti voglio rassicurare spiegare che va tutto bene va tutto va tutto va tutto va tutto bene va tutto va tutto Lo sguardo tuo è già più rilassato, ti percepisco un po' più sereno, sappi sempre che non sei solo, c'è sempre un amico o un'amica con cui poterti sfogare e ci sono io. Non pensare mai che si è soli a questo mondo, perché non lo siamo, c'è sempre qualcuno che ci vuole bene e che ha intenzione di farci stare bene. Non temere mai, non temere mai. E passa da qui, tutte le volte che lo vorrai, tutte le volte che lo vorrai. Ciao tesoro mio, ciao tesoro mio, spero che tu ti sia sentito un po' bello qua, ti mando un bacio. E ci vediamo presto, molto presto. Ciao